Non farò mai carriera nel partito. Gerardo Bandinelli era stato considerato fino a quel giorno il prescelto del partito per essere il direttore generale della Banca delle Provincie. Egli era stata promessa un'ascesa maggiore. Tra qualche anno aveva detto il segretario del partito voglio passare la mano a uno come te, in grado di vedersela con le opposizioni e di proporre criteri di azione vantaggiosi. Ma voglio anche un uomo che non dimentichi mai che i piccoli risparmiatori, i singoli, hanno sempre costituito la nostra base più solida. Bandinelli era quindi entrato nella Banca delle Provincie e si era fatto rapidamente valere. Sul piano etico aveva scoperto di avere gli stessi punti di vista di alcune colleghe del suo partito. Era più evoluto di molti colleghi maschi e per un calcolo coscienziale più che mentale si era reso conto che tre colleghe e forse di più avevano le doti e l'esperienza per governare meglio di lui la Banca delle Provincie. Avevano la sensibilità tipica della società femminile di entrare negli altri e di interagire con essi. Maria Solenni, per esempio, un giorno mentre prendevano un caffè gli aveva detto se l'Iraq e altri paesi di quell'area possono vantare il possesso di ordigni di morte sofisticatissimi, di gas e nervini, armi batteriologiche, di campi di addestramento terroristico eccetera, lo devono a chi governava gli Stati Uniti, che all'epoca gli inviò materiali, scienziati ed istruttori propri, tutto un bell'armamentario che servì a fare indietreggiare l'esercito russo, ma anche ad annientare migliaia di creature inermi della loro stessa razza. La Solenni aggiunse, per questo io non farò mai carriera nel partito che è da sempre filo americano. Bandinelli aveva ascoltato la Solenni in silenzio. «Sono d'accordo con te», disse quando uscirono dal bar. Rimasto solo, si inverse in riflessioni che già premevano in lui perché era pronto, e il giorno dopo andò dal segretario del partito. Gli disse «Come amministratore delegato della Banca delle Provincie io ti propongo la Solenni». «La Solenni», disse il segretario, «una donna è per di più un inutile idealista?» «Sì, perché la politica di oggi ha bisogno dell'idealismo della Solenni e di molte altre come lei». Ma perché, chiese il segretario del partito? Perché la società femminile ormai è più evoluta di quella maschile e le sue intuizioni servono al partito come l'aria.